vediamo le notizie della settimana bloccata l'avanzata di Omnath in tutti i formati di arena insieme a lui Bumper, Lucky Clover e Escape to the Wilds in Standard in un weekend padroneggiato da Mazzi Omnath Austin Bursavich vince la finale del Grand Finals 2020 contro il suo compagno di squadra bentornati ad una nuova edizione di MTGTG io sono Lazze e con Egaw siamo qui per fornire le novità più importanti nel mondo di Magic the Gathering sono bannati in Standard, Lucky Clover, Escape to the Wilds e Omnath Locus of Creation Omnath è anche bannato in Brawl e sospeso in Historic in questo formato sono anche confermati i ban per Teferi Time Reveler e Wilderness Reclamation Born in Tremissary invece è riammessa come promesso nell'ultimo aggiornamento alla ban list Wizards ha monitorato i vari formati ed è giunta alla conclusione che Omnath stava dominando Standard e Historic i mazzi a quattro colori che lo usano come principale risorsa erano arrivati fino al 60% come visto anche nelle liste del Grand Finals disposatosi lo scorso weekend e sebbene il ban di Uro abbia abbassato la percentuale di vittoria questi mazzi rimanevano troppo numerosi i banni in Standard quindi limitano i mazzi a quattro colori e di conseguenza il mazzo Adventure per evitare che prevalga ora senza rivali il discorso è simile per Historic dove nonostante la percentuale di vittoria minore che in Standard Omnath rimaneva il mazzo più giocato in Best of 3 per cui si è deciso di rimuoverlo anche da questo formato l'unica notizia positiva è per Born in Tremissary che sembra tornata ad un livello più in linea con il meta visto le aggiunte ad Historic di Amoncat e Jumpstart e Wizard ha fatto quello che doveva ha fatto il ban che tutti si aspettavano la maggior parte della gente se lo aspettava ancora due settimane fa hanno detto non lo facciamo in questo momento perché probabilmente vogliono preservare principalmente appunto il meta per il Grand Finals in modo da avere dei mazzi che fossero comunque un attimino testati e lasciare tempo ai giocatori anche di prepararsi però lo stesso torneo ha confermato Omnath è troppo, è troppo per Standard è troppo addirittura per Historic quindi Wizard ha preso la decisione che doveva prendere e l'ha tolto sì, sicuramente una scelta che molti giocatori si aspettavano mi viene da dire che forse ci saranno molte persone deluse che giocano cartaceo nel senso che standard in arena, standard cartaceo sono diversi c'è gente che investe del tempo c'è gente che investe dei soldi e secondo me in un ban tra l'altro rapidissimo sono penso 19 giorni dall'uscita e subito hanno bannato una carta del set cosa che non succedeva da anni mi sembra addirittura da prima del 2000 però mi immagino appunto un giocatore che esce il set entusiasta di nuove carte si inizia a prendere carte e si ritrova dopo due settimane a vedere le bannate quindi secondo me questo può essere per certi punti di vista anche non dico un fallimento ma un po' un allontanarsi dal cartaceo secondo me si è visto molto adesso a parte ovviamente il covid che le piattaforme online sono per adesso i propri motivi anche quelle più gettonate sì chiaramente ma questo ne abbiamo già parlato negli ultimi ban dato che è l'argomento che affrontiamo una settimana sia una no abbiamo già visto che il problema è che lo standard in questo momento si gioca online in America in teoria sono persino vietati proprio i tornei quindi se qua in Italia qualche torneo sta ripartendo lì che comunque mantiene la grossa fetta di giocatori è proprio vietato quindi è chiaro che in questo momento ci stiamo muovendo in un meta digitale e quindi ha delle differenze e la differenza principale è la velocità perché appunto come si diceva nel meta cartaceo anche semplicemente il fatto di dover andare in negozio comprare le carte magari ordinarne alcune che non ci sono ancora aspettare magari una settimana per montare il mazzo una volta che l'ho montato hai comunque più voglia di giocarlo anche se magari non funziona bene o se magari il meta cambia un pochino queste sono tutte differenze che sono da prendere in conto sì, l'unica cosa che mi preoccupa cioè almeno la domanda che mi faccio è perché sono tre set di fila dove c'è un ban immediato perché appena esce un set ci siamo quasi abituati a vedere una carta bannata e poi sì, fa anche ridere che la maggior parte delle notizie a meno che abbiamo fatto ultimamente sono relative esclusivamente ai ban sono ovviamente delle notizie super importanti che ci piace anche portare come contenuti però secondo me c'è qualcosa che non va sotto questo punto di vista e secondo me questo è rispecchiato molto anche da un po' questa transizione al digitale ne abbiamo parlato anche spesso il meta nella parte digitale è molto più veloce si evolve in maniera diversa e il meta cartaceo comunque rimane un qualcosa di diverso finalizzato alle realtà dei local game store eccetera quindi qual è il problema? cioè come si fa a risolvere una cosa del genere? io penso un po' anche al power level no? sì, il power level sicuramente è la parte fondamentale della questione perché con Eldraine periodo in cui comunque sono iniziati i ban partendo con Oco diciamo è assegnato anche a detta di Wizard un momento in cui a livello di design si è deciso di innalzare il power level in standard e questo in realtà è stato fatto coscientemente da Wizard per dire facciamo un gioco che sia più interessante perché venivamo da anni di standard che veniva considerato effettivamente più blando meno particolare con un power level così basso che non attirava tanto le persone quindi sicuramente la fase iniziale che è stata fino ad adesso è stata comunque un po' di una fase di transizione quindi magari Wizard non aveva gli stessi strumenti per valutare le carte in questo contesto vivevamo in un periodo di transizione in cui c'erano ancora sette diciamo che vivevano prima di questo cambio in filosofia e adesso in teoria con un nuovo standard che parte dal drain dovremmo essere con tutte queste carte progettate in questo meta la cosa che viene da pensare è ma quindi quando loro stavano testando tutte queste carte che adesso sono bannate erano illegali quindi loro riuscivano a immaginarsi un meta sano con tutte queste carte non so forse potrebbe essere la soluzione sbanniamo tutto? ma potrebbe essere anche perché se ci pensiamo bene questo è veramente il primo standard che ha detto loro dovrebbe essere di quel power level previsto mi viene da dire che però le carte che hanno bannato sono tutte carte che di un certo colore il verde e il blu sono sempre stati colori super forti hanno sempre bannato carte di quei colori va bene Omnath ne ha quattro però comunque anche le meccaniche sono spesso relative alle terre al ramp al fatto di non so di avere vantaggio per quanto riguarda il mana quindi secondo me anche l'esempio Field of the Dead è comunque una terra e la potevano giocare tutti per quanto riguarda Oko sì lì mi viene da dire che è stato proprio un errore hanno detto ok questa carta è paressimente sbilanciata bagniamola perché non non ha senso di esistere in standard e per concludere boffa pensando a come potrebbe evolvere il meta adesso mi verrebbe da dire che Dimir Rogue è sicuramente un mazzo bello bello forte che potrebbe creare problemi un po' a tutti e secondo me anche un mazzo molto bello e forse potrebbero tornare secondo me anche altre archetipi aggro come Monored e Monogreen ad esempio o anche non so Dimir Control adesso non so che altri mazzi ci potrebbero essere non so in questo momento sicuramente Dimir Rogue è già giocato molto il Monoverde negli ultimi giorni non era così forte però aveva già fatto alcuni risultati quindi anche lui potrebbe potrebbe tornare in vetta alla classifica diciamo quindi sicuramente ci sarà un po' più di possibilità per mazzi aggro e di conseguenza anche il contro potrebbe cercare di ristabilire un certo equilibrio Austin Bursavich vinge il Season Grand Finals 2020 durante lo scorso fine settimana si sono sfidati i 32 giocatori migliori della stagione in un torneo a doppio formato Historic e Standard in entrambi i formati i mazzi a base Omnath sono stati protagonisti fino a costituire più del 60% delle liste in Standard percentuale confermata anche nella Top 8 in cui gli unici mazzi differenti erano due Gruul Adventures e un Dimir Rogue nel mirror della finale disputata con il suo compagno di squadra Aaron Gertler si sono rivelate decisive le carte come Lucky Clover e Edswell in Keeper per fare vantaggio carte rispetto all'avversario beh che dire la finale è stata un mirror match quindi non è stata particolarmente entusiasmante sì curiosa dall'esempio il fatto che erano due compagni di squadra però comunque è stata rifletteva molto il problema che c'era in Standard e si è visto ovviamente che la maggior parte dei mazzi erano tutti i mazzi con Omnath però mi sembra comunque che il formato Historic mi sembrava un pochino più variegato no? sì il formato Historic portava già un po' di liste diverse rispetto a Standard c'erano meno Omnath e si conferma di nuovo come un formato abbastanza interessato anche da parte di Wizard e un pochino il formato in cui ci si può effettivamente rifugiare quando Standard diventa troppo stantio sì in effetti mi piace molto questa cosa ed effettivamente mi ci rispecchio parecchio sicuramente probabilmente adesso ci sarà gente un po' delusa da questi ban che giocava magari Omnath sicuramente in Historic troverà un formato sicuramente più variegato e interessante mi è piaciuto molto il mazzo Neostorm che sta un po' spopolando ultimamente non c'erano dei mazzi combo così incentrati su una combo è molto carino interessante ovviamente non è un mazzo top meta però mi è sembrato molto interessante utilizza Neoform per permettere poi di pescare vari dualcaster mage e fare multipli trigger di fatto si tratta quasi di un mazzo storm perché riesce a giocare un po' di tutto è molto interessante quello non lo so per adesso il meta di Historic mi sembra più variegato sicuramente appunto sarà ancora più variegato senza Omnath anche se rispetto a Standard non mi sembrava poi così incisivo rispetto a quello che è successo in Standard insomma sì appunto non era non era drammatica la situazione e Historic avendo anche un pool più ampio di carte permette di costruire mazzi un pochino più più vari sicuramente e voi avete già deciso che mazzi giocherete in risposta al cambiamento di questo meta fatecelo sapere nei commenti e come sempre ricordate di mettere mi piace al video condividere ed iscrivervi al canale se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Magic the Gathering ricordatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale come ogni settimana vi aspettiamo per la MTGTG da Egao e Lazze ciao e alla prossima